Che cos'è il TRN? È un acronimo che identifica il Transaction Reference Number, ovvero il numero di riferimento della transazione. Forse fino a pochi anni fa, quando effettuavi un bonifico, avrai sentito parlare del CRO con un termine simile, dato che veniva identificato nel codice di riferimento operazione. Come potrai intuire il nuovo codice del bonifico bancario non è altro che l'evoluzione del CRO, entrato in vigore nel 2016 con l'introduzione del bonifico SEPA. L'introduzione del Single Euro Payments Area ha portato a creare dei codici univoci che permettano di identificare, in ogni parte del sistema SEPA, una specifica transazione e avere la sicurezza che l'operazione sia stata effettuata. Infatti, il codice TRN di un bonifico bancario contiene tra la cifra 6 e la 16 anche il CRO originario. Quindi la stringa alfanumerica è un semplice codice di verifica in base al quale si può controllare se un bonifico è stato eseguito. Non c'è un elemento che può identificare la provenienza del bonifico come per esempio nel Liban. Il codice è unico, quindi per ogni bonifico se ne avrà differente. La sua importanza si rivela nel momento in cui devi per esempio dimostrare che un pagamento è stato effettuato, dato che il TRN di un bonifico SEPA è presente sulla ricevuta di versamento e può essere in questo modo utilizzato per inviarlo al destinatario. Dove si trova il TRN? Come specificato in ogni ricevuta dovrebbero essere sempre identificati i 30 caratteri alfanumerici. Se vuoi verificare il TRN di un bonifico online, una volta che avrai inviato la conferma del bonifico, ti sarà data la possibilità di stampare o salvare la ricevuta. Nella parte inferiore del foglio o del documento in PDF sarà evidenziata la stringa alfanumerica. Se invece vuoi verificare il TRN di un bonifico SEPA, effettuato presso lo sportello in banca, lo troverai sullo stampato di ricevuta che avrai dall'operatore come attestazione del versamento. Il TRN con poste italiane. Se possiedi un conto corrente alle poste italiane, è importante saper individuare il TRN di un bonifico postale. Tale operazione è possibile dal tuo conto online, dall'app installata sul tuo smartphone, oppure recandoti direttamente presso un ufficio poste italiane. Nel primo caso, basta accedere al sito o all'applicazione del tuo conto banco posta o della poste Pay Evolution ed evidenziare l'elenco dei movimenti. Se non hai tale opportunità e ti trovi nei pressi di un ufficio postale, non dovrai fare altro che recarti allo sportello, con la tua carta o il numero di conto, un documento di riconoscimento e il codice fiscale, richiedendo l'estratto conto. Il codice del bonifico è presente tra le voci lateralmente all'operazione di versamento effettuata. Infine, se hai ricevuto un pagamento dall'estero e vuoi rintracciare il bonifico, dovrai richiedere la ricevuta dell'operazione da chi ti ha inviato il denaro. Il TRN del bonifico estero sarà presente su di essa, dopo l'importo trasferito, indicando che il versamento è stato realmente effettuato.